musica 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 Horizon è la prima carabina bolt action di Franchi e di costruzione semplice di robustezza tutta prova essenziale e precisa ampiamente personalizzabile la calciatura in polimero caricato con fibra di vetro consente di mantenere le prestazioni balistiche invariate con qualunque temperatura innovativa nelle linee e molto ergonomica secondo la piattaforma di sviluppo Franchi XM. sviluppati internamente all'azienda. Attraverso lo studio dei movimenti e delle abitudini venatorie di più di mille cacciatori, questa piattaforma consente la realizzazione del fucile dalle forme perfette. Il calcio Atmut Sense è stato studiato tenendo in considerazione cinque posizioni di tiro. Gli attacchi per le magnette sono integrali, c'è anche la predisposizione per il montaggio del bipiede. Il calciolo TSA-DV è disponibile in tre spessori, 14-22 di serie e 32, per personalizzare la lunghezza di tiro, rispettivamente 347, 355 e 365. È capace di ridurre il rinculo del 50%, non si impiglia ma aderisce perfettamente agli abiti. Unica azione per i calibri 2,43 Remington, 2,70 Winchester, 30-06 Springfield, 308 Winchester è diversa invece per il 300 Winchester Magnum. Canna, azione e otturatore a tre lette sono ricavati dal pieno a controllo numerico. La forma della manetta è conica alleggerita, eventualmente smontabile e sostituibile senza necessità di utensili specifici. In combinazione con l'apertura a 60 gradi garantiscono una facile e veloce ripetizione del colpo. La calciatura della Horizon è fissata da due viti con boccole, mentre un efficace bedding in alluminio interagisce con una doppia sedia ricavata nell'azione. Gli attacchi per le basette dell'ottica hanno filettatura tipo Remington 700. La canna in acciaio ha il cromo molibdeno, lavorata con precisione per rotomatterlatura freddo e flottante. È lunga 566 mm che salgono a 610 solo per il 300 Winchester. Disponibile con o senza mire metalliche a volata con diametro di 15,5 mm, con filettatura da mezzo pollice e coprifiletto lappato. Sicura a due posizioni con otturatore libero. Scatto diretto regolabile tramite vite da 900 a 1800 grammi, disponibile su richiesto allo steca. Serbatoio da 3 a 4 colpi con molle in lamiera e fondello in polimero. I colpi nel serbatoio sono 4 per tutti i calibri e 3 nel 300 Winchester Magno. Il passo di rigatura è di 10 pollici per il 243 e 270, mentre di 11 pollici per tutti gli altri. Il peso per tutti i calibri è di 2,9 kg, mentre di 3,1 kg per il 300 Winchester Magno. Rosata di un MOA a 100 metri, 7 anni di garanzia sulle parti meccaniche. Franchi Filsrae.